A Salerno abbiamo organizzato più eventi musicali, tutti generi diversi, dalla lirica al jazz alla musica popolare. I siti coinvolti appartengono tutti al centro storico di Salerno e precisamente la strada di Via Tasso, nella speranza di valorizzare questa zona di Salerno portando la festa e portando la gioia della musica. In particolare a Santa Maria de Lama sono state organizzate due eventi. Uno in collaborazione con il Conservatorio Martucci di Salerno che ci ha offerto un concerto di musica lirica con un programma molto ricco e al pianoforte ci sarà il maestro Angelo Maresca, sempre alle ore 20. Precedentemente invece alle ore 18.30 ci sarà la festa sui gradoni organizzato dal Touring Club Giovani della Campania insieme alla sovrintendenza. Sarà una sorta di gioco dedicato alla musica in cui i ragazzi del Touring Club si interfacceranno con il pubblico. A termine di questa manifestazione si chiama festa sui gradoni, è la seconda edizione della festa dei gradoni. Allora al termine della manifestazione dei giovani ci sarà alle 19.45 ci sarà la posizione di una targa in memoria di una giovane dottoressa Rosaria Tancredi che apparteneva al Touring Club Giovani Campania che è morta precocemente all'età di 28 anni. Sarà presente anche il sindaco per questa occasione per ricordare questa giovane ragazza che tanto si era spesa nelle iniziative e nella valorizzazione di Santa Maria de Lama. Poi l'altra manifestazione organizzata sempre dall'ufficio promozione della sovrintendenza si svolgerà invece nei giardini di Villavegna, nei giardini storici di Villavegna grazie alla collaborazione dei proprietari della villa che ci hanno messo a disposizione questo luogo magico in cui ci sarà un gruppo di jets, jets manoush, i quasi manoush che ci faranno ascoltare questo gene di musica gypsy jets. Già hanno suonato per la sovrintendenza, hanno collaborato alla festa della musica del 2017 e visto il grande successo che hanno riscosso li abbiamo riproposti anche quest'anno. La festa della musica è aperta a tutti, a dilettanti, a professionisti e diciamo che il gruppo quasi manoush non sono dei professionisti perché nella vita loro fanno altro, però amano la musica, amano fare musica, amano l'amicizia, stare insieme all'insegna della musica, dell'allegria e questo ci regaleranno nei giardini di Villavegna. Anche quest'anno è la festa della musica e quale è l'iniziativa nel centro storico di Salerno? Allora noi partecipiamo e grazie all'occasione appunto come settore e beni demo-ettono-antropologici partecipiamo con un'iniziativa, una proposta musicale che rassegna suoni di terre e di mare quest'anno nella seconda edizione dove quest'anno avremo la presenza di gruppi musicali della tradizione appunto popolare e comunque negli aspetti curati, negli aspetti antropologici della strumentazione appunto tradizionale suono del tamburo. Quindi sono realtà che saranno presenti a Largo Montone, un'iniziativa che ha avuto la collaborazione, ha avuto l'appoggio del Comune e dell'associazione AICS Largo Santa Maria delle Grazie che ha sede proprio a Largo Montone. Questa è un'occasione per evidenziare a Salerno quasi una passerella per la città di gruppi musicali che lavorano in una realtà di nicchia e che comunque hanno un loro appannaggio appunto di credibilità e di diciamo di importanza musicale. Sono eterogenei e comunque danno la possibilità appunto ancora una volta così come è successo lo scorso anno di evidenziare dei particolari aspetti musicali che sarebbero sconosciuti alla città tutta e al territorio. Quindi abbiamo i gruppi, volevo un attimo citarli, Ventura Lera che è un progetto di custodia e diffusione della cultura cilentana. Poi abbiamo Felice Cutolo che è un ricercatore, un suonatore di Zampogne che proviene da Ottaviano, quindi anche questa evidenza di rapporti appunto che va dalla terra vesuviana che poi passa per l'agronocerino sarnese che poi arriva nelle realtà della Piana del Sele e del Cilento Alto. Quindi espressioni, quest'anno abbiamo privilegiato il suono dei tamburi, quindi nelle varie diciamo divergenze musicali di strumentazioni comprese balli tradizionali. Quindi un'occasione unica appunto che avrà un connubio, uno spazio bellissimo dal punto di vista acustico che è Largo Montone che si presenta diciamo ottimale e anche circondati da questa realtà urbana che è la parte monte del Plaio Montis della città di Salerno. Quindi anche un'occasione per la città di valorizzare un importante aspetto del territorio salernitano da un punto di vista monumentale, artistico e architettonico. La musica musicale ha collaborato con la dottoressa Carafa Antonio Giordana. Il lavoro della festa della musica di quest'anno, di che si tratta? Beh, quest'anno in continuità con quella che è stata già l'iniziativa dello scorso anno, noi cercheremo di proporre al pubblico una ricerca fatta proprio sulla presenza sul territorio della provincia di Salerno di quanti nell'ambito di questo segmento musicale si occupano appunto di tradizione popolare, in particolare del canto sul tamburo. Avremo un gruppo che ventulera, che ricerca nel Cilento, tra l'altro sono tra i pochi che ancora propongono il canto a distesa cilentano, fino a scendere alla Piana del Sele e per poi andare ancora un po' più al nord, fino a Pagani con Vincenzo Romano che per Antonio Masa è il cantore pellegrino della Madonna delle Galline. Tutto sarà coordinato dalla compagnia d'altro canto, che è un gruppo che oramai in questo territorio da molti anni analizza, ricerca e ripropone la tradizione popolare.